Per Global Project Tunisi è in corso davanti al Ministero delle Pari Opportunità una protesta delle donne tunisine contro gli accadimenti di qualche giorno fa rispetto alla violenza di un uomo su un bambino di tre anni. Il Ministro delle Pari Opportunità ha minimizzato la faccenda, adesso ascoltiamo una delle voci delle ragazze che stanno protestando qua davanti. Le persone qui manifestano contro il Ministro della Femme perché sono contro le decisioni che sono prissi. Non ne rappresentano la Femme Tunisiana emancipata, in particolare l'emancipazione della Femme. Il y a le viol che non arrate in questo momento, il y a una vague di viol contro i bambini, quindi siamo contro la Femme Tunisiana emancipata. Il Ministro della Femme Tunisiana emancipata, in particolare la Femme Tunisiana emancipata, in particolare la Femme Tunisiana emancipata. Il Ministro della Femme Tunisiana emancipata.